Buongiorno a tutti, non chiedetemi perché ma questa mattina mi sono svegliato con in mente bollicine di vasco rossi non lo so, io tra l'altro non bevo coca cola e quindi non per scelta, perché non mi piace un granché e quindi non so perché mi sono svegliato con... io la coca cola me la porto a scuola vabbè, mi direte voi, magari se c'è qualche psicologo all'ascolto potrà darmi una mano per cercare di capire quale turba infantile mi ha portato questa mattina a svegliarmi con questa roba in testa poi una volta svegliato mi sono rituffato nella questione Superlega, che è una questione importante anche perché ieri ha parlato il presidente e fondatore del padrone e dominus della Superlega non sto parlando di Andrea Agnelli, sto parlando di Florentino Perez prima però vorrevo fare una precisazione, ci tengo a fare una precisazione perché evidentemente è giusto che ci chiariamo su un punto fondamentale della questione io non sono per nulla d'accordo con questa Superlega spero che non sia passato un messaggio diverso da questo ieri le mie riflessioni erano delle riflessioni di approfondimento delle riflessioni di comprensione della situazione cercare di capire la situazione per non piangersi ad osso è giusto essere tristi per la presunta morte del nostro calcio nostro intendo per come lo intendevamo noi seppur già uscito dalla dimensione romantica da diversi lustri però allo stesso tempo applicando la regola del realismo e quindi la visione di quello che sta succedendo ed è il fatto che siamo onesti a parte qualche decisione drastica che potrà avvenire in qualcuno di voi ma siamo onesti il Milan è una passione che se è così grande come ad esempio per me non può essere accantonata perché fanno queste schifezze il Milan giocherà la Superlega e guarderemo le partite della Superlega magari all'inizio lo faremo con un po' ancora di scorie per questa vicenda poi dopo lo faremo con passione e poi magari fra qualche anno come potrebbe accadere lo guarderemo di nuovo con una certa noia quando e se non riusciremo a tornare ad essere competitivi perché già i contorni di questa vicenda si stanno un po' delineando e sembrano non essere molto favorevoli a una nostra rinascita in ogni caso questo è il principio a me questa cosa non piace è una cosa antisportiva e che va contro l'etica di quello che dovrebbe essere un confronto tra forze anche impari ma che possono comunque tutte ambire attraverso un ottimo lavoro ad arrivare a un risultato questa cosa è una cosa fatta per il denaro ma lo ha detto Florentino Perez che ha parlato ieri sera in un'intervista lo ha detto chiaramente ha detto pressa poco perché vedete magari sulle questioni di calcio non ci azzecco molto però sulle questioni economiche penso che possiate darmi il giusto credito ha detto esattamente quello che vi ho detto io e quello che hanno detto i miei amici della compagnia della Live cioè l'abbiamo fatto per il denaro e l'ha detto apertis verbis quindi non è una illazione l'ha detto apertamente l'abbiamo fatto per il denaro l'abbiamo fatto perché i giovani non seguono più il calcio ha detto anche questo riportando anche delle statistiche e lo facciamo perché dobbiamo generare un interesse attraverso lo scontro tra le principali squadre perché e ha detto anche questo a nessuno interessa vedere il Manchester United e il Real Madrid affrontare delle squadre minori quindi tutto quello che avevamo presunto si è poi esplicitato attraverso le parole del Presidente del Real Madrid ora questo sta portando a una lotta veramente quasi di classe tra i 12 tra l'altro 12 è anche un numero piuttosto evocativo e tutto il resto perché c'è una grande battaglia in atto tutte le istituzioni si sono messe contro questa cosa tutti gli sportivi anche gli amanti dello sport si sono messi contro questa cosa anche molti sportivi perché pensiamo alle parole di Jurgen Klopp pensiamo alle parole di tanti calciatori anche che hanno che hanno sottolineato come la mancanza di competitività intesa come sana rivalità sportiva e sano merito sportivo vengono meno attraverso la creazione di questa cosa chiaramente si tratta di diciamo di soldi e questo lo sappiamo si tratta però di un principio di base che è sbagliato a mio avviso cioè l'errore nasce non solo non solo ovviamente nella creazione di un mostro a 12 teste autoreferenziale che a lungo andare secondo me toglierà qualsiasi interesse anche ai grandi confronti perché Florentino Perez dice adesso la Champions League ha una formula che praticamente suscita interesse nello spettatore solo nella parte eliminazione diretta beh io non credo che la Superlega a lungo andare possa essere qualcosa di diverso ma al di là di questo il punto è che il principio di base dal mio punto di vista è un principio sbagliato cioè il voler continuare questo lo ribadisco e credo che questa sia una parte importante del mio pensiero che va contro questa cosa il voler continuare a gonfiare a dismisura questo animale a lungo andare non farà altro che sortire l'effetto dell'esplosione del maiale o dell'animale insomma sapete qua si dice il purcit il purcit è il maiale qua da noi e insomma il purcit viene caricato no? perché si gonfi e perché guadagni peso e perché guadagni ciccia ecco lì funzionerà allo stesso modo perché alla fine poi quando si arriverà alla saturazione delle partite alla saturazione del mercato la risposta che arriverà da parte del pubblico saranno risposte e disinteresse e allora ripartiranno tutte le rumbe e la pirateria uccide il calcio è per forza amico mio allora sapete no? come andrà a finire anche dal lato degli abbonamenti perché già ecco già si parla di piattaforme disposte disponibili alla trasmissione di questa cosa quindi è chiaro che poi tutto lo svantaggio si ribalta sulla schiena dell'utente finale che sarebbe quello che Sorrentino Perez vorrebbe attirare attraverso questa cosa ecco io credo che la strada intrapresa sia stata sbagliata quella di continuare a fare questa cosa ma è una logica che abbiamo visto anche da altre parti perché ad esempio prima che nel 2008 crollassero delle banche discretamente importanti negli Stati Uniti si continuavano a fare delle operazioni per pompare del denaro ma è la stessa cosa che sta succedendo anche in Europa o con la Fed o qualunque diciamo qualunque banca centrale che pompa denaro nell'economia poi dopo però quel denaro non va nell'economia ma va semplicemente a tenere in piedi tutto un sistema che si è costruito e che se dovesse cadere avrebbe delle ripercussioni sull'economia reale quindi su tutti noi sugli strati diciamo di chi lavora produce e paga le tasse il calcio è la stessa cosa quando Sorrentino Perez dice noi stiamo facendo questa cosa per salvare non solo noi ma anche le squadre piccole non mente però il punto è che per quale motivo anche le squadre piccole sono diventate così strettamente correlate a quelle grandi perché il calcio si è riversato totalmente nel business dei diritti televisivi l'unica fonte è quella perché è una torta ricca che anche le squadre piccole hanno cercato di mangiare al tavolo della quale si sono sedute dei quali si sono seduti tutti quanti per approfittare di questa cosa che indubbiamente è una cosa molto golosa ma che poi non serve a far crescere il business serve a far crescere il volume dei portafogli di certi personaggi certi personaggi sono tutti quelli che intorno al calcio ci vivono e purtroppo sono anche quelli che di lavoro vivono di calcio perché non pensiamo solo ai miliardari ma come dico sempre io ci sono anche quelli che a 1200 euro al mese 1500 euro al mese fanno un lavoro legato a una società dipendenti di una società di calcio però il problema è che poi la maggior parte di questi soldi finiscono in procuratori giri strani tutte queste cose qui quindi non servono al bene dell'azienda ma servono al bene degli interessi di pochi ecco perché arriviamo al punto focale il punto focale è che la strada del continuare a sovralimentare questo sistema a lungo andare porterà una sua implosione perché come dicevo ieri genererà un volume d'affari sempre più grosso e ne ha ben l'onde diciamo il buon florentino a parlare di tetto salariale e poi c'è da capire bene come i denari verranno distribuiti perché già si parla dell'impossibilità di utilizzare la quota di ingresso che pare poi sarà una tantum non ogni anno quei famosi 400 milioni di euro non destinabili non destinabili al mercato non destinabili al rafforzamento della squadra se così fosse allora se così fosse è chiaro che la quota che tu avevi destinato per le infrastrutture la metti sul mercato a patto che tu abbia destinato una quota alle infrastrutture cioè voglio dire nel nostro caso ad esempio ad Elliot per Elliot siamo sicuri anzi a Elliot per Elliot con Elliot siamo sicuri che il loro obiettivo sia un obiettivo sportivo di rafforzamento della squadra oppure che questo ingresso che tra l'altro da Football Leaks pare insomma sia stato come dire prefirmato a poco dall'insediamento del fondo come proprietario del Milan siamo sicuri che a Elliot interessi il rafforzamento della squadra e la parte sportiva rispetto invece a sistemare il bilancio recuperare i soldi che sono stati messi per ricapitalizzare e vendere il tutto diciamo a qualcuno non lo so poi dopo è chiaro che se finiamo in buone mani bene così tutti felici però nell'immediato vista anche la situazione diciamo così contingente che ben conoscete non lo so quanto possa esserci come dire possa esserci in questo momento mercato per trattative così importanti così voluminose ecco siamo sicuri che si andrà perché io leggo già molti tifosi convinti del fatto che il Milan potrà fare una campagna acquisti importantissima perché ci saranno centinaia di milioni di euro da spendere vedremo magari sarà così magari l'obiettivo di Elliot è effettivamente quello di in prima fase entrare in questo club e poi dopo anche cercare di fare il bene ma diciamo mi restano dei dubbi a riguardo mi restano dei dubbi perché si conoscono le finalità di un fondo si conosce la sua metodologia di lavoro e il fine ultimo per cui il fine ultimo io non credo che siano i risultati sportivi ma credo sia un abbondante ritorno dell'investimento perché l'investimento è fatto dai proprietari ma è fatto soprattutto da coloro che nel fondo mettono i loro soldi e decidono di investire in un'impresa questi sono i grandi dubbi legati a questa cosa che in ogni caso pare sempre più ormai sempre più vicina alla realizzazione mi tengo ancora una piccola parte di dubbio sul fatto che si porti veramente a termine la cosa perché si sta smuovendo talmente tanto tutto il sistema che magari ci potranno essere delle come dire dei compromessi tra la UEFA la FIFA e questa nuova cosa che è nata allo scopo diciamo di trovare una soluzione che possa tenere in vita i club e mantenere la UEFA come riferimento centrale in Europa perché insomma abbiamo capito che se la UEFA perde le grandi squadre naturalmente il suo torneo avrà una valenza molto molto inferiore abbiamo visto già le proiezioni insomma delle squadre che potrebbero partecipare alla prossima Champions League che tra l'altro è una monnezza terrificante e anche lì ma l'abbiamo già detto le colpe della UEFA sono innegabili sono le principali anche per la regolamentazione economica quindi per il finanziario e tutto quello che non si è fatto in questi anni per evitare di farci che il pur cheat come dicono da noi diventasse talmente grosso che bisogna continuare a dargli da mangiare in continuazione perché altrimenti esplode altrimenti muore la nuova Champions League è una fetecchia come direbbe Totò e la UEFA secondo me non sa da che parte andare ed è anche rimasta piuttosto sorpresa da quello che è accaduto e le parole di Cefalin in questo senso che ovviamente non passa dalla parte del giusto perché qui la guerra è una guerra tra istituzioni marce fino al midollo però rivela un po' la situazione quindi il doppio gioco che qualche personaggio ha fatto e anche questo sinceramente detto fra noi non stupisce per nulla e i grossi problemi ai quali potrebbe andare incontro la UEFA nel caso in cui non dovesse avere a disposizione le squadre principali d'Europa per cui la guerra è aperta e sarà una guerra molto dura sarà una guerra dai risvolti poi insomma impronosticabili in questo momento per cui stiamo a vedere che cosa succede resta il fatto e chiudo e vi saluto e vi auguro una buona giornata che innanzitutto a questo punto non so che cosa potremmo aspettarci dalla partita di domani anche se in ogni caso sarà bene arrivare nei primi quattro perché dovessero poi trovare un compromesso e dire ok vabbè la Superlega la facciamo insieme alla UEFA però ci arrivano queste squadre le altre quattro sapete adesso molliamo magari poi le prime quattro vanno comunque a fare la Superlega e noi la prendiamo lì quindi bene non mollare la tensione però chiaramente un annuncio fatto adesso rende anche l'Ede quella che potrà essere lo sport ancora una volta e la competitività del torneo la regolarità di un torneo che è già stato abbastanza falsato che sembra veramente come dire sembra tutto un grande fine impero un fine impero vedremo se il nuovo impero sarà migliore ma ho forti dubbi a riguardo vi auguro una buona giornata e ci sentiamo alla prossima